Batman Arkham City è il primo capitolo della serie di Batman a cui gioco, devo dire che è carino anche se mi sono bloccato diverse volte, sinceramente questo genere di cose non è che mi piacciono molto in un video game, provisco più un gioco competitivo ma non che mi do scervellare per trovare la strada giusta, anche perché quanto gioco voglio rilassarmi. Certo, come molti giochi si possono fare missioni secondarie dopo la storia principale come i Watch Dogs 1 e 2, però sinceramente questo tipo di missioni secondarie tra virgolette, secondo me stanno bene come stanno, cioè non le giocherò mai perché sinceramente missioni secondarie che sono più complicate di quelle della storia principale, sinceramente mi dà un po' ai nervi, forse qualche volta ci giocherò così tanto per passatempo quando non ho più nessun gioco a cui giocare, però non credo che mi ci metta più di tanto a perdere il mio tempo, perché io mi penso molto più sulla storia che sulle missioni secondarie. ma avrei messo molto più tempo a le quinto o i giocherò, ma solo per far vedere che sono delle scasse pillole, cioè posso capire che il giocherò stia malato e non si può muovere, però almeno Aliquin l'ho messo un po' di più, perché penso che in questo caso avrebbe molto meritato, forse avrei messo, non dico come salvare il ricicolo, ma chissà di cosa, ma anche solo per salvare Italia al culo, visto che fa una brutta fine al termine della storia, esercitamente mi è dispiaciuto moltissimo, visto che quel personaggio mi è piaciuto moltissimo, anche se è poco, come posso dire, poco accentuato, cioè fare solo quelle scene, personalmente avrei messo di più, così come il cattuomo che l'avrei messo molto di più nel videogioco rispetto a come è stata impostata, cioè le avrei fatto fare molte più missioni come primaria, non come dire sì o come missioni sporadiche, certo questa opzione si vede anche in Batman Arkham, ma però come missioni secondarie per liberarla dall'enicchimista, che mi sono fermato a fare la quinta missione, a quinta chiave, ma non come ricordo, perché sicuramente mi sono proprio sfastigliato di giocare a quella missione secondaria, che ovviamente mi veniva a fare l'enicchimista, mi pensava a quella, certo forse continuando mi sono rotto di coglioni, continuerò a provarci, anche solo per passatempo, anche solo per alluncare un po' il proto, però continuando a parlare di Arkham City, fortemente mi è piaciuto, ma non tanto per la giocapabilità, ma per la storia, come lo vedo per la terza o quarta volta, graficamente fatto veramente decente, non nel senso decente da una scala da una 10 a 2, ma come 4 e mezzo 5, non so se vi rendo l'idea, mentre per la caratterizzazione dei personaggi, non so, forse era un po' più incentivata come storia, come caratterizzazione, ma come storia, che poi è una cosa che non ho capito, è proprio all'inizio, che poi suoi si fa restare e poi evade, evade e poi non torna indietro per farsi scaccionare, se ci viene la trovo senza senso, poi non so se si devono fare misure secondarie per completare il 100% del gioco, però fatemi sapere se qui nei commenti c'entra qualcosa delle misure secondarie, perché sicuramente trovo la cosa un po' troppo stupida, vediamo così, vabbè, forse in futuro farò la misura secondaria, ma vabbè, mi sono un po' ripetuto, ma vabbè, e spero che il video vi sia piaciuto e vi lasciate un bel like al video, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!